In medesimazione in esso Io sono un culturista. Commento Il corpo fisico è uno strumento che permette, anche meno mato, alla coscienza di agire nel piano fisico. Ecco perché i maestri ci dicono di mantenere in salute il nostro corpo e che è giusto migliorarlo, ma tenendo presente il fine ultimo del corpo che non è l'immedesimazione in esso.